Io sono Walter Fattore, amico carissimo, dice lui, di Mario Rossi, abita al piano di sopra e combinerà 20.000 casini tentando di aiutare il povero tassista e la situazione precipiterà fino adesso non ve lo posso dire se no svelo il finale eccetera eccetera però è un personaggio molto divertente, io mi diverto molto a farlo insieme a Gianluca, è un personaggio che io ho amato fin dall'inizio, fin quando lo vidi in altre edizioni. Il mio ruolo è quello di un brigadiere che rompe nella scena per cercare di capire questo sdoppiamento di questo signor Rossi che appunto avendo due case praticamente non si capisce qual è la sua e con tutti gli annessi e i connessi, di conseguenza arriva questo brigadiere il quale in maniera smagata viene invischiato in questa vicenda paradossale con esiti abbastanza divertente e paradossale. Lo spettacolo è molto 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 divertente, scritto ad arte da Ray Cunei, questo autore inglese. Chi? Ray Cunei? Geniale, io sono di Roma, tradotto da Rai Conei, tradotto italiano da Iaia Freastre. Vi invito a vederlo perché è il spettacolo veramente divertente. Venite perché così, vi distraete e vi divertite per due ore sicuramente. Vi aspetto alla sala Umberto. Grazie a tutti.